Si sapeva, si sapeva, così come si sapeva tutto il resto, e cioè che quello che stava accadendo ci sarebbe poi, avremmo avuto delle ripercussioni sulle famiglie. Anche lì, io in questa trasmissione ho detto dovete spiegare agli italiani, ma non ora, lo dicevo a maggio, lo dicevo ad aprile, dovete spiegare agli italiani quanto costa questa guerra, quanto pagheranno e perché si sapeva? Perché si sapeva la prima cosa che era ovvia, se tu fai delle sanzioni, io ricordo le interviste di tutti i politici che adesso si sorprendono dicendo che le sanzioni sono durissime e nel giro di pochi giorni la Russia si troverà. Ricordo un'intervista del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, concessa al Corriere della Sera, proprio in quei giorni, se non sbaglio era il 5 di marzo, in cui diceva esattamente queste cose. Ricordo un'altra intervista del ministro che se ne è appena andato, il ministro degli esteri, che disse che le sanzioni sono pesantissime e quindi otterremo. Beh, bastava farsi un giro tra gli operatori per capire, e anche per quelli che si capivano un po' di politica, che alle sanzioni, innanzitutto non avrebbero avuto l'efficacia che ci eravamo detti, ma soprattutto che alle sanzioni Putin avrebbe reagito ponendo delle altre sanzioni. Cosa che ha fatto? Il Rubinetto non lo chiudiamo noi, non siamo noi che ci distacchiamo dalla Russia. E lui, vi faccio vedere, questo è del 2 di marzo, sono le copertine di Panorama, che ci guadagna sulla guerra, questo di una settimana dopo. Il boomerang delle sanzioni, non serviva l'economist per capire che c'era il boomerang. Siamo in aprile, siamo in aprile. Si sapeva che non funzionavano e si sapeva che le avrebbero pagate le famiglie. Ora che il governo scopra, ah ma adesso sono salite, c'è la speculazione, la speculazione c'è sempre stata, il mercato c'è sempre stato, il prezzo del gas è cominciato a salire l'anno scorso, prima della guerra, e nessuno ha fatto niente. Se si fosse voluto, anche il famoso tetto al prezzo del gas, se ne parla da quanto? Da maggio? Da maggio si parla di tutto questo. Eppure non hanno fatto, addirittura l'ultima riunione di giugno, hanno rinviato ad ottobre la decisione, solo perché adesso è salito a 330 euro megawattora, improvvisamente hanno deciso di anticipare al 9 di settembre. E secondo voi, se anche decidessero, quelle bollette che ci mostravano, chi le paga? Chi le paga? Gli italiani le pagano. Allora... Grazie. 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 Grazie.